Cosa facevano le donne della transumanza? Pensate che queste donne così coraggiose e così resilienti come si direbbe oggi rimanevano sole da settembre a giugno, quindi il giorno di San Giovanni quando bene o male si tornava dalla transumanza e nel frattempo quindi facevano una marea di attività tutte di autoproduzione, basate sull'autoproduzione e sull'autosufficienza. Qui abbiamo per esempio dei saponi, dei saponi fatti a base di olio extravergine d'oliva, a base di olio d'oliva che si possono fare benissimo con metodi anche veloci senza cottura. Abbiamo delle erbe che ci dimostrano un po' quelli che potevano essere gli usi svariati delle erbe selvatiche appunto c'è il cardo dei lanaioli che serviva proprio per cardare la lana, quindi per pulirla, per rimuovere tutte le impurità ed era un metodo davvero efficace dato che veniva utilizzata poi anche a livello industriale nel corso del Novecento, Tardo Novecento. Abbiamo delle piante di lavanda come potete vedere, queste venivano utilizzate anche sotto forma di tisane, di distillati e quindi l'alambicco, l'alambicco che è il distillatore che poteva essere usato sia per le vinacce con accorgimenti diversi sia invece per la distillazione delle erbe, per prenderne tutte le proprietà e principi attivi.